Un'amica su facebook mi ha chiesto di aiutarla a rifare il pane al mais in versione senza glutine e io ci ho provato e devo dire sono contenta del risultato quindi oggi per voi pane al mais ma integrale senza glutine senza lattosio crosta croccante, mollica compatta, morbida, molto morbida e asciutta un pane veramente buonissimo seguitemi in cucina e vediamo come l'ho preparato ho iniziato versando in ciotola l'acqua poi ho aggiunto il lievito di birra e infine ho aggiunto la miscela per pane senza glutine qui sotto in info box vi descriverò esattamente la ricetta e nel post blog vi suggerirò le eventuali alternative e infine ho aggiunto la farina di mais integrale questa è una farina di mais per polenta ho trovato la versione integrale che è ricca di fibre e di proteine e l'ho preferita la versione classica che è un po' meno nutriente rispetto a quella integrale ho impastato con la ciotola e una spatola quindi poi a mano non ho utilizzato la planetaria o le fruste elettriche munite di ganci per impastare qualunque di queste tre versioni quindi a mano con la frusta elettrica o con la planetaria sono validissime una volta impastato per 5 o 6 minuti ho aggiunto il sale e l'olio e ho continuato a impastare a mano per una decina di minuti in maniera tale da ottenere un impasto sia appiccicoso molto morbido ma compatto ho unto benissimo una ciotola ho versato l'impasto ho creato una palla di pasta molto regolare aiutandomi con le mani benunte io uso sempre guanti usa e getta perché sono veramente molto pratici e comodi poi ho coperto con un coperchio l'ho messo nel forno prediscaldato a circa 35 gradi e l'ho lasciato livitare fino al raddoppio mi ci sono voluti circa 70 minuti nel mio caso ma voi dopo 60 minuti sorvegliate la livitazione non deve superare il raddoppio normalmente il pane al mais si prepara tradizionalmente con il lievito madre nel nostro caso il lievito madre di riso io l'ho preparato una prima volta però francamente non mi è piaciuto molto il risultato perché ho ottenuto una una mollica troppo umida troppo collosa veramente sgradevole e allora per evitare di sprecare ulteriori ingredienti ho deciso di farla con il lievito di birra oltretutto ha una buonissima resa ed è velocissimo da preparare perché nel giro poi di due ore due ore e mezza il pane sarà sarà pronto una volta il pane rivitato l'ho staccato con delicatezza dalla ciotola ho capovosto la ciotola su un foglio di carta coperto di farina di mais fine ma potete usare la farina di riso fine e se avete unto bene la ciotola si staccherà con facilità mantenendo la forma sferica a quel punto ho spolverato anche la pagnotta con farina di mais fine ho praticato un taglio a croce e ho infornato il pane su pietra refrattaria che ho fatto riscaldare all'interno del forno e il forno era caldo a 250 gradi quindi l'ho fatto cuocere per 15 minuti a 250 gradi poi ho abbassato a 220 gradi l'ho lasciato cuocere per altri 20 minuti infine ho spostato il pane nella griglia centrale togliendo la carta da forno e non usando più la pietra l'ho cotto a 180 gradi in modalità ventilata per ulteriori 15 minuti poi l'ho lasciato raffreddare su una gratella per circa un'ora prima di affettarlo in questo caso è necessario il riposo perché altrimenti la mollica sarebbe tosto appiccicosa e collosa e la crosta è croccante come vi dicevo la fetta di pane è veramente morbida ed è buonissimo molto rustico il sapore a me è piaciuto davvero tanto si presta benissimo per fare dei crostoni di pane per fare delle bruschette o anche per accompagnare dei salumi o dei formaggi molto buono provateci anche voi fatemi sapere cosa ne pensate lasciatemi magari un like se vi fa piacere e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine grazie per la visione e per la condivisione ciao e alla prossima grazie a tutti